Un giovane disabile minacciato con un bastone, poi costretto da un gruppo di bulli adatte o sceni, mentre il tutto veniva filmato con dei cellulari, nei guai sono così finiti tre minorenni. Il tutto sarebbe successo nei mesi scorsi nella piazza di Pergine Valdarno. Adesso la procura del Tribunale dei Minori di Firenze ha aperto un fascicolo di inchiesta. A raccontare l'episodio sarebbe stata la giovane vittima, un 22enne con problemi psichici. Il ragazzo infatti si sarebbe confidato con la madre e da qui era perdita la denuncia. I tre, tutti minorenni, uno addirittura 15enne, sono adesso indagati per atti sessuali. Avrebbero infatti costretto il 22enne, minacciandolo con un bastone, a calarsi i pantaloni per poi masturbarsi. Ovviamente i contorni di questa storia sono ancora tutti da chiarire. Il ragazzo è stato già ascoltato dagli inquirenti, ovviamente con tutte le attenzioni del caso. La procura ha infine disposto una perizia sugli smartphone dei tre adolescenti, alla ricerca di immagini ma soprattutto della verità su questa torbida vicenda.